Questo è lo stand LG del Mobile World Congress 2015 e quello che teniamo in mano è il nuovo LG Watch Urban LTE una versione modificata del Watch Urban lanciato soltanto poche settimane fa ovviamente come dice il nome la caratteristica principale di questo dispositivo è l'integrazione di un modulo LTE quindi oltre alla connettività bluetooth verso il telefono, da e verso il telefono c'è anche wifi BGN e LTE ovviamente è possibile anche utilizzare il dispositivo come strumento NFC per effettuare i pagamenti dicevamo le caratteristiche rispetto al Watch Urban non sono poi particolarmente cambiate la cassa è leggermente più grande ma l'impostazione rimane identica ci sono tre pulsanti sulla cassa invece di uno soltanto lo schermo è lo stesso, 1,3 pollici circolare con tecnologia BioLED, quindi plastico LED quello che cambia sul piano pratico è il tipo di sistema operativo installato mentre nel caso del Watch Urban è Android Wear questo è un dispositivo realizzato sulla base di un software creato appositamente da LG ora guardando questo dispositivo non si può non pensare che si tratti di WebOS LG non ha voluto confermare o smentire che si tratti di un prodotto basato su WebOS ma pare evidente che la scelta sia caduta su un software che è stato acquisito ormai mesi o sono da parte di LG dopo un lungo giro passando per HP e partendo da Palm che aveva sviluppato per prima questo tipo di sistema operativo perché è stato utilizzato un sistema operativo diverso? Android Wear non supporta completamente nativamente la parte telefonica e quindi LG ha deciso di optare per questo dispositivo per utilizzare WebOS sulla base del quale era più semplice integrare i servizi telefonici inoltre è disponibile anche una versione particolare di questo Watch Urban vedete c'è un'automobile Audi qui nello stand il motivo è che esiste una collaborazione tra LG e Audi per produrre un dispositivo sulla base di questo hardware che verrà lanciato però nel 2016 che servirà a utilizzare alcune funzioni smart anche all'interno dell'automobile per il resto l'hardware è pressoché analogo al precedente quindi Qualcomm Snapdragon 400 1 GB di RAM, 4 GB di storage, la batteria è un po' cresciuta e arriva a 700 mAh vedremo quando questo dispositivo sarà lanciato effettivamente poi sul mercato italiano non dovrebbero aspettare molto è un dispositivo molto interessante sul piano della costruzione ricorda molto l'orologio vero e proprio integra anche le funzioni di monitoraggio del numero di passi si comprende anche un GPS quindi si possono tracciare i movimenti c'è la lettura del battito cardiaco tramite questo sensore ottico posto sul fondo della cassa la ricarica avviene appoggiandolo su una basetta come quella che c'è qui in Fiera per il momento dall'LG booth del Mobile World Congress è tutto ci rivediamo su Telefonio.net Grazie! 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 Grazie!